Per CBLive siamo con Gio Di Tonno, benvenuto a Campobasso visto che ci sei stato già più volte in questa città. Come nasce l'idea di interpretare canzoni del cinema in un contesto come questo di oggi nella chiesa di San Bartolomeo? Intanto credo che le chiese in generale si prestino molto per situazioni di questo tipo, molto intime, raccolte. Sono tutte canzoni tratte dal cinema ma che hanno comunque un filo conduttore che più o meno è l'amore. E quindi mi piaceva l'idea di proporre al pubblico di Campobasso in questo contesto. Poi tra l'altro per un cantante esibirsi in chiesa è sempre bello perché c'è un'acustica naturale incredibile, a San Bartolomeo in particolare. E quindi anche per fare una cosa un po' diversa dal solito. E le canzoni che evocano comunque ricordi, il cinema fa parte della vita di tutti noi e mi piaceva stimolare un pochino il ricordo, l'aspetto un po' nostalgico ma l'inconico della vita. Sei uno dei cantanti più rappresentativi dei musical, questa forma di arte in Italia è sempre più apprezzata. Sì, per fortuna sì. Si sono fatti molti passi avanti. Sicuramente il musical che mi ha reso un po' più celebre è Notre-Dame de Paris che è stato il musical che ha segnato proprio uno spartiacque in Italia. È una nuova tendenza di fare spettacolo, almeno qui, perché prima c'era la commedia musicale di Gariné e Giovannini, poi arrivavano le cose da Broadway, quindi il musical di stampo anglosassone e poi si è aperto un pochino all'opera moderna, questa nuova o comunque vecchia scrittura, sempre attuale, che dà la possibilità a tanti di avvicinarsi ad un genere, tra l'altro, ci tengo a sottolinearlo, entusiasmante e coinvolgente. Perché spesso, secondo me, i non addetti ai lavori vedono il musical come una cosa noiosa, a volte lo so per certo perché tanti amici, tanti conoscenti che dicono, oddio, ma no, il musical. Invece io invito molti a vedere certi spettacoli che sono belli perché hai la possibilità poi di vedere degli artisti, mi permetto di dire, veri, perché sul palcoscenico in teatro non puoi mentire, non è come la tv che ci sono degli escamotage. In teatro c'è verità e quindi vedi degli attori che recitano, cantano, si muovono, ballano, danzano, eccetera, con grande professionalità. L'iniziativa di oggi vede anche la collaborazione di una grande voce come Luca Violini. Com'è nata questa collaborazione? Guarda, con Luca siamo amici da diversi anni, è un doppiatore che ha una voce straordinaria. Io praticamente vivo ascoltando e scambiando proprio emozioni e professionalità e mestiere con chi usa la voce. E lui è uno che usa la voce in maniera incredibile, è un doppiatore straordinario, un attore straordinario. E ci è piaciuta questa cosa di raccontare proprio il cinema attraverso dei piccoli frammenti che Luca sa rendere al meglio e insomma ha la capacità di emozionare con la sua voce. Il 2017 vedrà Gio Di Tonno protagonista in quale contesto? Su cosa stai lavorando per l'anno prossimo? Guarda, non voglio essere banale, io mi auguro di star bene e che la mia famiglia stia bene, quella è la cosa più importante. I contesti lavorativi sicuramente continuerò il tour di Notre Dame che abbiamo ripreso l'anno scorso dopo dieci anni. E' tornato insieme il cast storico, quello che ha lanciato questo spettacolo. L'anno scorso abbiamo fatto un tour incredibile di 160 repliche in sei mesi. Quindi si fanno facilmente i conti di quanti spettacoli abbiamo fatto in ogni mese. Adesso riprenderemo il 28 dicembre, ripartiamo da Roma, andremo avanti di nuovo fino a settembre, fino all'Arena di Verona che dovrebbe essere la tappa conclusiva. Dico dovrebbe perché finché c'è una richiesta andremo avanti, insomma, fin quando ce la facciamo. L'amore per questo spettacolo è incredibile. Notre Dame ha assagnato la vita di tanti, di noi che lo facciamo e di tutti quelli che l'hanno visto. E quindi è anche qui un'occasione di invitare quelli che non l'hanno visto a vedere qualcosa di unico, un evento unico, per emozionarsi, per divertirsi. Siamo ormai nel pieno periodo natalizio. Un tuo saluto personale alla città di Campobasso? Io faccio i migliori auguri a tutti di trascorrere un buon Natale, delle serene feste, in compagnia con delle persone ovviamente che amate di più. E ovviamente poi una preghiera per quelli che invece stanno meno bene di noi e che dovranno passare il Natale in condizioni meno fortunate. Quindi penso alle persone che sono negli ospedali, nelle tendopoli, insomma tutte le persone che purtroppo vivono un momento difficile della loro vita. Quindi stiamo lì vicino, tutto qui, amiamoci e tutto qui. Grazie a Gio Di Tonno e complimenti per questa bellissima iniziativa. Grazie, grazie a tutti.